In ambito startup, uno dei termini più popolari in questo momento è sicuramente Product Light Growth. Lo è per alcuni buoni motivi e oggi siamo qui per spiegare che cos'è e perché ti dovrebbe interessare. In particolare, se la tua azienda vende software ed è interessata a ridurre il costo di acquisizione, questo potrebbe essere il video che fa per te. Fondamentalmente Product Light Growth è la trasposizione digitale del campioncino di profumo che ti metti per vedere se ti piace il profumo e poi effettivamente se comprarlo. So che sembra un po' una banalizzazione del concetto, ma pensiamo un attimo a quelli che sono stati i cambiamenti nell'ecosistema negli ultimi 5 anni. Il costo per fare advertising ha continuato a salire di anno in anno, ma il prezzo a cui noi vendiamo il software in realtà tende a scendere. I prezzi diventano sempre più economici per chi sta comprando. Le persone non vogliono più sentirsi dire cosa comprare, stiamo tutti diventando acquirenti informati. Vogliamo cercare per conto nostro informazioni su Google e su altri motori di ricerca per capire di più dei prodotti che stiamo comprando. E quindi di conseguenza è molto più difficile trovare brave persone che sappiano fare vendita. La vendita diretta funziona di meno e diventa sempre più raro trovare appunto buone persone che riescono a vendere in maniera consistente e continuativa. Il terzo aspetto è che adesso le persone sono molto più invogliate a condividere prodotti che trovano tra di loro, sia perché magari si innamorano del prodotto che gli piace particolarmente, sia perché stiamo creando molti più prodotti, tra virgolette, multiplayer. Pensiamo a qualcosa tipo Slack o Microsoft Teams che sono cresciute perché le persone continuano a invitare i loro colleghi all'interno di queste sorte di WhatsApp lavorative, in modo che ci sia più valore, no? Se io ho 100 persone che conosco all'interno di un programma potrò parlare con tutte quante loro, quindi sono incentivato a invitarle a far parte del mio gruppo. Tutto questo ci spinge esattamente a voler far provare il prodotto ai nostri acquirenti prima ancora che lo possano comprare. Product led, quindi la crescita sostenuta appunto dal prodotto, si rifà proprio a questo concetto. Sicuramente si tratta di uno spettro in cui un'azienda può essere più da una parte o più dall'altra, ma prendendo un po' gli estremi, se da una parte abbiamo un software tradizionale che ha bisogno di marketing e spendere i soldi per collezionare delle lead, collezionare delle mail, che poi vengono girate a un team di sales. Il team di sales poi farà tutto il processo setupando 4-5 chiamate per spiegarti perché vorresti comprare il prodotto, come fare, che è sicuramente un approccio ancora valido e utile per alcuni casi, ne parleremo dopo, però questo è il modo più tradizionale. Nel modo di fare product led si ha magari un team di marketing che si lavora e che crea degli ad, fai in modo che le persone siano interessate e vadano sul sito e poi una volta sul sito tu come acquirente puoi fare un po' di ricerche su Google, su YouTube, dove vuoi per capire di più riguardo al prodotto, vedere recensioni. Se ti interessa ti registri, provi il prodotto tu stesso senza bisogno di nessuno che ti spieghi in chiamata cosa fare. Se il prodotto ti piace poi continuerai ad usarlo e eventualmente lo comprerai. Fondamentalmente product led growth si rifà a questo processo qui. Poi ripeto, alcune aziende magari hanno bisogno di più coinvolgimento da parte di un team di sales, specialmente in alcuni casi, altre meno. Adesso parliamo di qual è la situazione ideale per adottare product led growth, ma prima di farlo vi rinvio a varie risorse molto molto utili sul tema. La prima è un podcast registrato dalla mia founder insieme a uno dei nostri investitori, Brian Belfort, che è uno, non è il World of Wall Street, anche se il nome potrebbe sembrare, specie da come lo pronuncio io, ma uno dei più grandi esperti del mondo growth. Ha fondato Reforge, che è uno dei corsi più importanti in ambito di formazione, appunto, growth, marketing, product. Quindi vi invito assolutamente a vedere questo podcast che è in descrizione. Alcuni dei temi di cui vi parlerò oggi li ho proprio sentiti da lui, no? Quindi lui riesce a esprimere in maniera talmente semplice che sarebbe uno spreco non portarvi qui, semplificarli e tradurli. E un'altra risorsa estremamente importante, anche questa connessa con la mia esperienza lavorativa, con molti colleghi che collaborano con loro, è il sito di product led growth. Si chiama esattamente così, sono un po' loro che sono stati pionieri di questo termine, di questo movimento. Fondamentalmente non hanno inventato nulla di nuovo. Hanno messo insieme una serie di teorie, di concetti, e hanno intercettato questo cambiamento del mercato, e hanno creato questo termine intorno che secondo me funziona molto bene. Hanno scritto vari libri, molto interessanti, alcuni sono anche qui dietro in libreria. Uno specifico su product led growth, che cos'è. Hanno spiegato il loro bowling alley, la loro teoria, diciamo, per semplificare tutto il concetto. Magari un giorno ci farà un video. E anche un altro libro chiamato product led onboarding, dove si concentrano più su come tenere gli utenti all'interno del proprio prodotto. Quindi torniamo al punto iniziale e al framework di Brian, di cui vi ho parlato. Cosa vogliamo, diciamo, in quali casi product led è una soluzione auspicabile? Beh, sicuramente è ideale avere un prodotto che riesce a offrire valore anche in single player. Quindi una persona che dal nulla si registra il nostro prodotto, dovrebbe essere in grado di poter trarne valore, ok? Pensiamo a Notion. Notion è un tool che spero la maggior parte di voi conosca. Comunque si tratta di una wiki che potete usare sia da soli, quindi potete cominciare a scrivere i vostri documenti, a scrivervi i task che volete fare, a segnarvi i contatti. È una sorta di Google Docs però con gli steroidi, di Word ma con gli steroidi. Ma, secondo punto delle feature importanti per i prodotti product led, è anche un tool che incentiva la collaborazione. Quindi vogliamo rendere l'esperienza multiplayer più interessante e più utile. Io chiaramente scrivo i miei documenti su Notion, però poi sono incentivato a invitare i miei colleghi in modo che loro possano leggere quello che scrivo, oppure in modo che anche loro possano scrivere e contribuire a quello che sto facendo. Quindi questo è un aspetto importante. E il terzo aspetto è legato al costo e alla parte di onboarding. Vogliamo far sì che il costo del nostro prodotto sia accettabile, tra virgolette, per un processo di self-onboarding. Quindi vogliamo che le persone entrino nel prodotto da sole, senza che ci sia bisogno di sales, che gli spieghi la vendita. Però non ci possiamo aspettare che una persona faccia un checkout per conto suo, per un prodotto che magari costa 100.000 euro. Oltre a una certa soglia, che può essere quella dei 10.000, 100.000, ma anche quella dei 200 euro, dipende dal tipo di prodotto che stiamo vendendo. Però oltre a una certa soglia, certi tipi di prodotti hanno bisogno di un certo tipo di vendita fatto magari con i guanti di velluto. Quindi la persona ha bisogno di sentirsi spiegare bene, meglio il valore del prodotto, ha bisogno magari che il prodotto sia spiegato. Quindi è anche utile e importante che il prodotto sia facile da capire a primo impatto, in modo che non ci sia bisogno di un onboarding. Se invece, appunto, stiamo vendendo qualcosa di complicato, qualcosa di costoso, non c'è nessuna vergogna nel seguire un funnel più tradizionale. Anzi, molte aziende magari differenziano anche il tipo di vendita che fanno in base all'azienda che voi rappresentate. Magari immaginiamo un'azienda tipo, appunto, sempre Notion, che vede Google, magari il CTO di Google, che cerca informazioni su Notion, loro cercheranno chiaramente di coinvolgere la parte di team sales che può entrare in contatto direttamente con lui, spiegargli meglio il valore di Notion, magari anche fare degli affari con lui, dargli degli sconti, trovare modi di collaborare più personalizzati. Ecco, mentre invece per tutti gli altri nuovi comuni mortali semplicemente andiamo sul sito, mettiamo la nostra carta di credito, facciamo la prova gratuita, eccetera, eccetera. Bene, un altro aspetto sicuramente importante è che vogliamo raggiungere quello che viene chiamato time to value nella maniera più veloce possibile. Proprio per questa situazione dinamica del mercato, in cui gli utenti sono sempre alla ricerca di nuovi tool, sono loro stessi ad esplorare le opzioni e hanno tante opzioni che possono testare in maniera gratuita, hanno tanti campioncini da potersi mettere addosso, noi vogliamo che il nostro campioncino risalti subito al loro naso o ai loro occhi. Quindi vogliamo che, appunto, time to value, il tempo che le persone ci mettono per andare dall'onboarding del nostro prodotto, dal sign up, dal registrarsi, fino al momento in cui dicono, ah, ok, adesso ho capito come questo prodotto mi può aiutare, questo prodotto effettivamente mi sembra utile, mi sembra vantaggioso, mi sembra migliore degli altri. Ecco, questo lasso di tempo noi lo vogliamo rimpicciolire il più possibile. Più è corto, più è probabile che la nostra azienda sia compatibile con Product Live Growth. Bene, fino adesso abbiamo parlato degli aspetti positivi di Product Live Growth, no? Chiaramente non avremo bisogno necessariamente o subito di assumere un team di sales o comunque se lo abbiamo magari sarà più snello, sarà meno costoso. Ci aspettiamo che il costo per acquisizione sia più basso anche perché abbiamo bisogno di meno attenzione per ogni singolo utente e magari possiamo rivolgere le nostre attenzioni, i nostri soldi a sviluppare un prodotto migliore, a migliorare tutta la parte di onboarding automatica del prodotto, no? Ci sono tante app, tipo AppCuse, che vi aiutano anche a modificare i messaggi all'interno della vostra applicazione per far sì che le persone siano in grado da sole di navigare il prodotto e trarne il meglio possibile. Questa però è anche una delle prime sfide, no? Chiaramente nel momento in cui non abbiamo nessuno nel nostro team di vendita che spieghi il prodotto, dobbiamo renderlo talmente facile, intuitivo e semplice che chiunque sia in grado di trarne valore o se non chiunque sia un potenziale cliente che ci interessa. Quindi questo assolutamente rende la situazione più difficile e a complicare ancora di più le cose c'è il fatto che moltissime di queste aziende product light growth sono aziende cosiddette orizzontali, quindi non risolvono un problema specifico per una persona specifica, ma possono essere tante cose per tante persone diverse. Ritorno sempre al solito esempio di Notion. Notion può essere una versione di Google Doc più carina per alcune aziende, può essere un CRM, quindi per gestire tutto il processo di vendite, per magari piccole agenzie e può essere anche un modo per costruire una roadmap per un team di sviluppo prodotto in una startup. Quindi questi sono tre casi completamente differenti di persone che vogliono usare lo stesso prodotto, Notion. Quindi noi dobbiamo essere in grado intanto di capire quali sono i casi più interessanti per capire dove concentrarci all'inizio, e già questa è una scelta che a livello cognitivo richiede molto tempo e molta attenzione, ma poi soprattutto dobbiamo anche essere in grado di fornire un'esperienza di onboarding del prodotto che effettivamente sia utile per tutte e tre queste persone, ammesso che ci interessino tutte e tre questi casi. Quindi sicuramente quello più importante, lato business, sarà quello a cui dedicheremo più attenzione, ma vogliamo anche avere un'esperienza gradevole per tutti gli altri. Questa complessità nell'acquisire e mantenere clienti si traduce anche in una crescita paradossalmente più lenta per molte di queste aziende. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prima di raggiungere quello che magari spesso viene chiamato inflection point o diciamo prima di raggiungere un punto in cui cambia tutto per l'azienda, un momento in cui la crescita diventa esplosiva, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di ricerca, c'è bisogno di parlare con tanti potenziali clienti e utenti in modo da intanto capire chi è il nostro utente target, chi può essere il nostro cavallo di troia per entrare poi all'interno di tutti gli altri team dell'azienda. Può essere magari il team di marketing, il team di prodotto. Dobbiamo capire qual è il caso che ci interessa di più e questo appunto specialmente all'inizio porta a una crescita più moderata. Questo può essere un problema per le start-up che magari hanno tanta pressione da parte dei loro investitori. Se vediamo alla traiettoria di crescita e di investimento di aziende appunto come Notion, come Miro, che hanno avuto successo con questo modello, loro tendenzialmente hanno raccolto pochi fondi all'inizio e appena hanno iniziato a vedere una crescita invece esponenziale hanno fatto man bassa e sono riusciti a raccogliere grandi round con grandi valutazioni. Quindi è importante avere un ottimo timing da questo punto di vista. Calendly è anche un altro ottimo esempio che fa Brian, che è cresciuto piano piano, ha cercato di trovare il suo market fit, channel market fit anche. E poi una volta che ci è riuscito e che ha visto che le lead arrivavano in maniera ottimale con un costo buono scalabile, allora hanno cominciato a spingere tutto sull'acceleratore. Questo sicuramente è uno degli aspetti più complicati da fine-tuning, da aggiustare lato product-led growth. Un altro problema è che molto spesso il valore generato da queste aziende è legato anche alla community che c'è intorno e ai contenuti che ci sono intorno. Quindi per esempio di Miro, che è una specie di whiteboard digitale, è una specie di lavagna digitale in cui tutti quanti possono collaborare insieme, possono mettere post-it, possono scrivere tra di loro. Beh, è un'azienda che all'inizio ha dovuto creare manualmente tanti template che si rifanno appunto a tutti i vari tipi di utilizzo orizzontali della piattaforma. Questo è un lavoro che chiaramente richiede tempo, richiede attenzione, richiede tante risorse. Poi solo dopo che hanno cominciato ad avere una certa soglia di utenti, fetta di utenti, sono potuti andare da, per esempio, varie agenzie che vendono servizi di, non lo so, di brainstorming, mettiamola così, che vendono servizi per cui aiutano le persone a prendere decisioni in azienda e che quindi hanno un interesse a essere sponsorizzati verso le persone che utilizzano già Miro. Bene, loro sono andati da queste aziende e le hanno chiesto, ok, adesso voi create i template per conto nostro, in compenso avete un po' di pubblicità e potenzialmente le persone che usano Miro vedono il vostro template, vedono i vostri contatti e decidono di lavorare con voi. E poi solo dopo si raggiunge un terzo stage, che è quello più interessante, in cui chiunque, qualsiasi utente, può condividere i propri template e i propri asset con tutti quanti in modo che lo possano utilizzare. Quindi appunto, prota e light growth sicuramente una buzzword, ma veramente interessante o qualcosa a cui secondo me dovreste dare un'occhiata. Se è un tema che interessa, che è utile, ci farò altri video in futuro. Ho notato che in Italia se ne parla poco, quindi spero che questo video sia stato utile e interessante per inquadrare bene di cosa stiamo parlando. Se volete vedere casi di aziende di successo che hanno seguito questo modello, a parte tutte quelle che ho menzionato nel video, potete guardarne tante altre, Figma, la stessa azienda per cui lavoro io. Ancora non siamo ai livelli dell'azienda che ho menzionato, spero che un giorno ci arriveremo, però Software, quindi S-O-F-T-R, è cresciuta fondamentalmente così. Non c'è stato alcun tipo di spinta di marketing, semplicemente le persone che volevano condividere tra di loro l'esperienza. Un altro aspetto importante di cui parleremo in futuro, e magari poi vi lascerò video in descrizione quando ci saranno, legato al concetto di product led e anche quello dei loop. Quindi come passiamo da una concezione antica di marketing, antica o comunque in realtà anche abbastanza recente, però magari diversa di marketing funnel, a quello di invece Growth Loops, che hanno un approccio differente. Ecco, mettiamola così. Vi lascio un po' un teaser per potenziare i futuri video. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine, vi chiedo a questo punto le solite cose da youtuber, tanto ormai avete visto tutto il video, potete mettere like, scrivervi insomma quelle solite cose che vi chiedono gli youtuber bravi. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!